Grazie di essere venuti a questo appuntamento, a questo talk. Io sono un po' abituato a parlare delle iniziative della nostra associazione che comunque menzionerò perché appunto come vedete è Roberto Innocenti ma devo ringraziare un po' il contesto di germogliazione all'interno dell'associazione dove c'è un ecosistema, un ambito di persone con un certo atteggiamento, con una certa cultura che fa sì che anch'io in qualche maniera partorisca certe cose. Anche se diciamo, lo speech che faccio non è che rappresenta il punto di vista dell'associazione, rappresenta il mio punto di vista però faccio parte dell'associazione quindi in qualche maniera vi dico due cose da dove arrivo, se no non si capisce. Allora, l'associazione è un'associazione culturale che si promuove software libero e hardware libero e anche collaboriamo con le scuole, in particolare nelle marche dove c'è coding e ci sono diciamo riutilizzo di pc con su linux e abbiamo interesse anche di fare iniziative con l'università, ad oggi non sono attive iniziative con l'università ma ci interessa farlo. Ci occupiamo un po' come dicevo nello scopo dell'associazione sia del lato hardware quindi abbiamo un progetto che poi farà lo speech alle 5 di questo prototipo di notebook open hardware e poi facciamo appunto come dicevo prima, educazione con scratch nelle scuole e diciamo ci piacerebbe all'università anche fare iniziative per cui gli studenti facciano esperienza quasi lavorativa nel progettare schede che poi vengono effettivamente prodotte magari in piccola scala però diventano delle esperienze molto concrete. Ci piacerebbe fare qualcosa del genere un po' come abbiamo fatto in grande scala con la scheda amata del portatile che è un progetto molto complesso quindi non lo proporremmo come progetto sfidante perché magari ci vanno diversi anni. Questo chiarisco un po' quindi da dove parto, cioè diciamo che la nostra associazione e quindi anch'io che ne sono il presidente ci occupiamo di sapere solidale e di libertà di scelta quindi evidentemente il mio talk riguarderà quello rispetto all'intelligenza artificiale cioè non sarà un talk di uno che inneggia l'intelligenza artificiale in sé no, infatti il tema era quale minacce quindi parleremo di quello ma ovviamente non è che sono contro in sé. Per cui diciamo a noi, a me interessa la solidarietà nel sapere e che sia un sapere utile a liberarci dalle condizioni di oppressione e ci dia possibilità di avere pari opportunità dipendentemente dalle condizioni di partenza che conosciamo culturali, di genere o di qualsiasi altra cosa. Ci interessa divulgare ovviamente le tecnologie che rispettano la libertà e che non ci fanno diventare oggetti del capitalismo e della sorveglianza cioè in pratica non ci fanno diventare fonti di business con i nostri dati. E ci interessa ovviamente questo tipo di divulgazione, questo tipo di conoscenza questo tipo di presa di coscienza fare in modo che si distribuisca un po' in tutte le fasce della popolazione non destinata solo agli specialisti. Per cui diciamo, come dicevo prima, ci interessiamo sia di hardware che di software ci interessiamo anche di progresso scientifico nell'ottica della varietà di ipotesi scientifiche e utilizzando gli strumenti della filosofia della scienza per analizzare la scienza di modo da ridurre i rischi della manipolazione, del monopoio e dello scientismo. Questi sono obiettivi a tendere, non sono attualmente attività se non forse questo mio talk è la prima attività in quella direzione lì. Vabbè, i progetti ve l'ho già detto, il portatile e sì, diciamo che chi partecipa ci interessa che diventa protagonista cioè un'associazione che non punta alla manovalanza in sé ma punta che la gente succeda qualcosa nella propria vita che senta che cresca la sua vita, che è più contento che sta meglio con gli altri, che si libera dai condizionamenti cioè fai dei passi per liberarsi dai condizionamenti che possono essere oppressivi poi non è che tutti i condizionamenti sono negativi ci mancherebbe e vogliamo sentirci liberi di costruire quindi ci sono progetti interessanti che sono difficili da fare o da soli non si possono fare cerchiamo di mettere insieme le persone perché si riescano a fare o comunque si possa perlomeno tentare e lo stesso sarà per questo progetto del portatile open hardware che era molto sfidante che è molto sfidante vabbè, quindi ci sono delle caratteristiche cioè della passione per appunto il software libero la ribellione del software chiuso la testaggiaggine del creare dell'hardware piuttosto, insomma, una serie di questioni adesso che non voglio dilungare perché non è la presentazione dell'associazione in sé e va bene allora iniziamo a parlare un po' di cosa si intende col termine intelligenza artificiale allora, diciamo che ci sono un paio di definizioni quella forte e quella debole quella, diciamo, debole è, diciamo, quella dove vediamo attualmente attivate molte, diciamo, tecnologie e quindi in qualche maniera si punta a risolvere dei problemi specifici e ovviamente non si punta a, diciamo a dare una coscienza alle macchine non è quella quindi è quella che attualmente di quella di cui si parla ad oggi l'intelligenza artificiale debole è quella lì quella forte che è stata ipotizzata è un campo di ricerca dove l'intelligenza artificiale generale in qualche maniera cerca di replicare l'intelligenza umana compreso anche, diciamo, delle aspettative di autoconoscenza e di consapevolezza va bene, giusto così per dare due etichette non sono un esperto di tutte queste branche ci mancherebbe non è il mio l'obiettivo mio non è quello di fare l'esperto di queste cose possiamo dire che c'è il cosiddetto machine learning l'elaborazione del linguaggio naturale e la robotica che rientrano un po' nella pletora dell'intelligenza artificiale una definizione di questo Mitchell dice che il programma apprende l'esperienza E facendo dei compiti T e la sua performance migliore, migliore nel tempo cioè autoapprende con l'esperienza questa è la sua definizione relativa all'intelligenza artificiale ci sono varie metodologie del machine learning visto che uno dei tre settori era il machine learning quello più grosso diciamo in realtà c'è il deep learning dove appunto si parte dalle reti neuronali quindi c'è la riproduzione del comportamento dei neuroni sia a livello hardware ma il grosso dello sviluppo mi sembra che sia avvenuto in questi anni a livello software e quindi puntando a quel tipo di caratteristica di comportamento che hanno i neuroni e della loro rete di relazione tra di loro si punta chiaramente all'autoapprendimento e il diciamo la non necessità di preprocessare i dati quindi quello è il deep learning a span non è che qua vado a fare lezioni di cosa sono queste cose non è il mio obiettivo però diciamo se c'è qualcuno che proprio non sa di cosa stiamo parlando per gli esperti vengono loro a spiegarmelo a me perché non sono io l'esperto poi c'è l'online learning nel senso che in tempo reale c'è un apprendimento continuo perché sono situazioni diciamo dove è necessario che ci sia non c'è un archivio con tutto diciamo come dire open AI che arriva fino non so al 2022 ma è continuo ci sono appunto model prediction quindi vengono utilizzati questi sistemi di machine learning per fare delle previsioni per prevedere eventi a futuro per tante applicazioni ci sono altre che si chiamano explain regression classification che qua non so quasi un cazzo di cosa sia però diciamo si occupa come dice qua di problemi di regressione classificazione information retrieval per gestire rappresentazione memorizzazione organizzazione l'accesso oggetti contenuti informazioni che questo diciamo lo fanno diverse come si dice diversi servizi attuali lo fanno e poi il reforce learning dove c'è un'interazione anche con l'ambiente quindi diciamo non è come dire una chat e basta dove c'è un linguaggio naturale per interrogarla ma forse applicato forse alla robotica dico forse perché anche sono un esperto di questo però diciamo è un po' per un attimino scompatare un attimo il termine intelligenza artificiale e le sue accezioni e per chi è proprio a zero minimamente mettere qualche coordinata per chi è esperto non ha bisogno certo di quello che ho detto io qua adesso le origini vabbè diciamo che la letteratura che si trova fa riferimenti a questi anni 50 a questa macchina in grado di simulare il funzionamento dei neuroni la Mark 1 Perceptron e poi altri riferimenti più che altro su un paper precedente del 43 dove ipotizzano questa possibilità di un sistema che simulasse il comportamento neuronale quindi nel 43 l'hanno in qualche maniera immaginato questi tizi ma non solo loro sicuramente poi c'era anche Turing e poi nel 5 anni 50 non so se il 56 mi sembra c'è stata una macchina enorme di 5 tonnellate che occupava una stanza che iniziava a simulare quel comportamento sì nel 56 esatto nel 58 c'è il prototipo ci ha messo meno del nostro portate ci abbiamo messo 8 anni solo 2 anni e va bene quindi diciamo così giusto per mettere alcuni riferimenti per cui è emersa in un periodo l'intelligenza artificiale tra la guerra tra la seconda guerra mondiale la concezione effettivamente anche nel film di Turing si vede come era il tentativo di decifrare messaggi in codice che mandavano diciamo l'esercito tedesco con i vari sommergibili per fare loro diciamo azioni quindi c'era una spinta diciamo legata alla guerra o arrivare a una situazione diciamo di superamento della guerra quindi nasce sicuramente lì lo sforzo di Turing applicato a quello e poi comunque abbiamo visto che negli anni 50 ci sono questi primi modelli di macchine che riproducono che cercano di produrre il comportamento dei neuroni e sono in piena guerra fredda quindi comunque in un periodo di un certo tipo per cui diciamo questo termine e diciamo un po' quello che si porta dietro culturalmente nasce in quel periodo forse è un po' obsoleto non lo so vediamo ad oggi ah beh qua diciamo sicuramente se dovesse aggiungere come dire una mia opinione è che in qualche modo sì ci interessa che lo facciano meglio cioè tutto quello che viene diciamo automatizzato nell'apprendimento di queste macchine di questi processi sarebbe interessante che lo facciano via via meglio come no chiaramente abbiamo visto anche come la necessità che vadano supervisionate cioè che il prodotto di quella diciamo applicazione di quelle macchine di diciamo analisi di elaborazione di valutazione eccetera se non supervisionato almeno ad oggi sicuramente ha prodotto varie situazioni diciamo critiche no a parte le allucinazioni però chiamate così allucinazioni però ci sono tante altre questioni che vengono fuori no diciamo classificazioni di persone come pericolose per omonimia o per altre questioni cioè come dire va supervisionato in ogni caso dalla Silicon Valley dicono che la panacea come dire sicuramente porterà un miglioramento ci vuole per tutto un po' come un coltellino svizzero no vabbè qua scusate solo siccome molti avvengono strassigua che poi LLM non c'entra niente se no parliamo di macchine virtuali e per dire che è quel linguaggio con cui diciamo modello linguistico che viene utilizzato con queste macchine cioè per esempio OpenAI usa un LLM no allora io mi faccio mi ispiro nel mio speech a questo signore Evgenimo Morozov che è un sociologo giornalista bielorusso dell'84 che è molto critico su questo tecno-ottimismo e diciamo su questa un po' panacea che viene venduta la tecnologia come una risoluzione di qualsiasi problematica tecnologia quella in particolare quella che arriva dalla Silicon Valley cioè quella legata al digitale a tutta quella parte lì e di conseguenza anche l'intelligenza artificiale e mi trovo molto d'accordo per tante ragioni che io cercherò un po' partendo dalle sue parole e dalle sue punti di sviluppare o comunque di colorare con la mia punto di vista però diciamo che se voi seguite i suoi articoli o avete visto vari interventi troverete che ricalco molto ma perché me la ritrovo come dire avrei detto se avessi potuto avrei detto le stesse cose e quindi diciamo ma questa non è una cosa che lui sostiene ma la tecnologia è sempre stata usata per scopi ovviamente di potere no nel bene e nel male è uno strumento anche di dominio può esserlo uno è stato quindi non dice niente di nuovo secondo me però lo mettiamo in chiaro cioè questo speech parte da quella visione che io condivido parte da quelle premesse rispetto al tema della libertà e parte anche da un'analisi un po' così un po' incurante di alcune diciamo magari abitudini a vedere le cose questo signore Mark Henderson che è quello che ha fatto un escape il 16 ottobre quindi da pochissimo ha pubblicato un manifesto chiamato tecno-ottimista e denuncia i tentativi di regolamentare la tecnologia sapete che c'è stato questo tema di fermare un po' lo sviluppo dell'intelligenza artificiale questi firmatari o comunque diciamo cercare di capire bene l'impatto che ha firmato da diversi diciamo imprenditori o comunque azionisti manager coinvolti nei vari progetti di intelligenza artificiale e non solo e quindi nel contesto di questa cosa in realtà lui dice l'opposto assolutamente bisogna e lo stesso Wired dice che sta sbagliando non su quella cosa ma anche su altre io così ho preso un estratto di sto manifesto già per adesso è lungo il manifesto però mi hanno fatto molto colpo quello che lui scrive lui dice nelle varie cose sotto la voce bugie ci viene detto che la tecnologia ci toglie il lavoro riduce i salari aumenta le disuguaglianze minaccia la nostra salute rovina l'ambiente degrada la nostra società corrompe i nostri figli compromette la nostra umanità minaccia il nostro futuro ed è sempre sul punto di rovinare tutto cioè il fatto che le mette come bugie insomma mi fa un po' impressione il fatto che non sia sempre vero ma il fatto che sia sempre falso è molto strano che uno scriva queste cose cioè è strano relativamente lui ci fa business quindi è un è uno di quelli di venture capitalist quindi ci mancherebbe no? e poi dice la verità la sua voce la verità che già per uno che fa come me filosofia è un po' impressionante anche questo la nostra civiltà è stata costruita sulla tecnologia la nostra civiltà è costruita sulla tecnologia lo ripete varie volte quindi sia nel pensato del futuro e quindi come la tecnologia è buona in sé poi va avanti fa un elenco tipo una preghiera quindi poi a parte che non ci stavano potete tanto le slide le condividerò potete andare a vedere il sito dove c'è il suo manifesto e poi giustamente da Bohan Venture Capitals dice crediamo che il libero mercato sia il modo più efficiente per organizzare un'economia tecnologica giustamente è andata sempre bene quindi ci mancherebbe e poi parla della macchina del tecno capitale cambiando tecnologia e mercati si ottiene quella che Nick Land ha definito la macchina del tecno capitale il motore della creazione materiale perpetua della crescita dell'abbondanza quindi anche qui similanta abbondanza purtroppo in questi anni nonostante tutte le app non mi sembra che ci sia questa grande abbondanza anzi vediamo che continuamente peggiorano le condizioni del diritto alla salute all'educazione situazioni lavorative i disastri ambientali mi sembra che questo abbia portato alla grande promessa messianica che la tecnologia in sé e la loro tecnologia diciamo delle app e di tutto ciò che riguarda la gestione che hanno proposto abbia portato questa perpetua crescita abbondanza quindi già è un po' tardi per fare questo manifesto però va bene torniamo un po' così approfondiamo un attimo alcuni alcuni riferimenti allora Airbnb e TaskRabbit sono state dipinte come salvatrici della classe media no? TaxRabbit si occupa appunto di lavoretti traslochi cose di manutenzione delle case no? beh Airbnb come vedete ha più o meno questo qui è crunch base per vedere la situazione di ogni società c'è un capitale di 6 miliardi di dollari no? quindi è abbastanza grossina no? TaskRabbit no però diciamo tutti e due non hanno cambiato la situazione della classe media la classe media si sta impoverendo progressivamente in tutto il mondo quindi non mi sembra che anche queste promesse abbiano portato piuttosto che questa Soylent e ciccio cosa devo fare? questa Soylent che propone questi frullati che secondo loro secondo insomma il loro messaggio dovrebbero risolvere il problema della fame nel mondo anche qui non mi sembra che sia successo piuttosto la truffa della Teranos era un'azienda della Silicon Valley valutata 9 miliardi di dollari che aveva promesso che si poteva risolvere il problema della sanità facendo degli esami diciamo del sangue a dare moto insomma una serie adesso nel dettaglio non ho guardato però insomma gli era stato già detto che quel tipo di progetto fatto non l'aveva impestato lei non sarebbe funzionato da chi diciamo si occupa degli esami però fa niente siccome fino a un certo punto ci hanno creduto poi ci hanno perso un sacco di soldi è stata capitalizzata è diventata miliardaria però poi era una truffa Uber aveva promesso che avrebbe risolto il problema di trasporti pubblici in alcune città americane come Chicago aveva detto siccome qua le infrastrutture degradano sempre di più non succede qua perché ogni tanto devo ogni tanto muovere aveva promesso che se avrebbero risolto il problema del degrado delle infrastrutture come al solito mai risolvendo il problema amministrando la scarsità cioè visto che dato di fatto le infrastrutture peggiorano come dire certo da sole non migliorano allora noi con i taxi avremmo risolto con questi taxi incredibilmente a costi da niente tra la guinda autoguidata la gente che la paghiamo niente andrete grazie non è andata così anzi Uber ha avuto nel 2018 un buco da 1 miliardo e 900 milioni di dollari e comunque anche stimando che loro avessero veramente dispiegato tutte queste autovetture avrebbero intasato il traffico di 63 paesi nel mondo quindi comunque un progetto perlomeno per come viene venduto assolutamente irrealizzabile quindi così giusto per parlare di questo messianesimo della Silicon Valley poi abbiamo Sam Altman che è il CEO di OpenAI e lui dice ovviamente va benissimo perché dovrei mettere in discussione il sistema capitalistico cioè lui dice è fantastico certo senza dubbio amo il capitalismo e questo tipo di capitalismo in particolare perché ce ne sono varie accezioni giustamente dice tra tutti i sistemi cattivi del mondo comunque il migliore il meno cattivo per lui sicuramente e spera cazzo che se ne trovino migliori cioè dategli da fare io sicuramente mi devo fare però non so se riesco a umanizzarlo più di tanto e quindi lui dice tra l'altro addirittura l'intelligenza artificiale generale potrebbe addirittura superare il capitalismo quindi addirittura promette un superamento ma dice cioè io giustamente dice secondo me si può far meglio quindi forse riusciamo a fare meglio noi va bene lui va bene chiaramente OpenAI ha rastrellato 11 miliardi e 3 ci sono alcune dichiarazioni che ne vuole rastrellare 10 volte costa più o meno stimato 700 mila dollari al giorno l'infrastruttura e adesso tutto sommato per un certo tipo di utilizzo è gratuito ovviamente non potrà rimanere tale cioè se no chi investitori sono questi come dire spendono 11 miliardi più quello che devono spendere ancora per poi darlo gratuitamente perché ovviamente c'è un ritorno cioè non è che in tutti i casi devono fallire come le altre società che ne hanno visto cioè l'altra per esempio era una truffa per cui chiaramente a un certo punto dovrà alzare le tariffe dovrà dovrà prima rendere dipendenti molti per poi finalmente tornare indietro dell'investimento no per dire nel senso torniamo un po' a quello che è l'anima ovviamente di questo capitalismo di cui loro sono si autodefiniscono promotori quindi come dire non è che non lo dicono quindi sono anche coerenti poi io qua ho fatto una carrellata di varie applicazioni dell'intelligenza artificiale in vari settori qui è più una carrellata non c'è una critica diretta se non che ho riportato le paroline di questa versione che si occupa di salute e poi dice chiaramente vuole che risparmiamo tempo che abbiamo più tempo libero eccetera eccetera vabbè però la cosa è un po' come mi fa così sorridere essendo in un ambiente di condivisione come free software open source che loro dicono no abbiamo come dire abbiamo superato i limiti dell'AI normale ma noi ve lo diciamo com'è no la nostra piattaforma semplicemente funziona poi il resto fatevi vostri sintetizzando a me non piace tanto però vabbè magari non è una truffa magari fa delle cose interessantissime come approccio in questo ambiente lo denuncio come non consono al nostro tipo di diciamo frequenza sensibilità poi mica per tutti è così poi abbiamo google deep mind che diciamo alimenta un paio di progetti di società isomorphics lab nata nel 2001 effettivamente digerisce tanti dati per scoprire nuovi farmaci nuovi principi attivi adesso non mi ricordo se era nel campo degli antibatterici non mi ricordo il dettaglio però è molto interessante e poi c'è AlphaFold che diciamo fornisce l'accesso a questi 200.000 diciamo formulazioni diverse di proteine e chiaramente questo database che è stato prodotto interpolando appunto l'intelligenza artificiale su diversi dati di partenza potrebbe essere molto interessante e utile per quel settore lì poi diciamo quello l'ho menzionato però non ho approfondito è Elicit che diciamo parla di grazie alla ID un grande miglioramento nelle ricerche documentali e poi Nividia che vuole creare un modello digitale della Terra per calcolare con largo anticipo tutti i comportamenti dei terremoti a tutto quello che è utilizzando appunto tra l'altro come ha fatto anche Huawei adesso non so se l'ho messo dopo in quel caso specifico Huawei l'intelligenza artificiale l'applica sulle previsioni meteorologiche e diciamo lì il vantaggio è la capacità computazionale necessaria che secondo loro è molto minore rispetto all'attuale tecnologia quindi cioè nel senso che a parità di anche costo è molto più veloce per dire la verità quindi ci sono applicazioni molto interessanti e vabbè poi ci sono appunto un po' tutti insomma un po' in bocca di tutti l'intelligenza artificiale come qualcosa che adotteranno per diciamo per essere più efficienti chiaramente anche il nostro sempre Sam Altman dice che porterà beneficio alla crescita di ricchezza chiaramente non dice di chi sicuramente di questi azionisti sicuramente gli altri non lo sappiamo cioè il fatto che possa essere uno strumento utile sicuramente ma il fatto che l'attuale impianto dove ci sono grossi investimenti a fronte poi di ricavi successivi e dove adesso lo vedremo c'è dietro comunque un modello ideologico ben preciso non sembra appunto che sia interessato a migliorare ma a amministrare quello che c'è la scarsità diciamo così questo per dire investimenti molti si stima 150 miliardi nel 2023 verranno spesi saranno spesi siamo quasi arrivati alla fine del 2023 a livello mondiale quindi c'è interesse io faccio una domanda sto parlando da un po' tanto anzi manca che punto sono scusa se tiro un po' le balle lo dicevi ok avete sentito di parlare di minaccia di intelligenza artificiale non so di quale minaccia avete sentito qualcuno sa dirmi di quale minaccia stanno parlando di intelligenza artificiale discriminatoria per esempio perita a posto di lavoro anche giusto in alcuni casi stanno dicendo JP Morgan dice ci sarà una perita di 300 milioni di posti di lavoro per esempio dicevano quindi soprattutto dove c'è produzione di attività intellettuale soprattutto in quanto ancora la robotica non è così diciamo distribuita anche se ci sono diversi avanzamenti anche il potere delle macchine su un uomo ogni tanto si sente qualcuno che ha paura che poi le macchine no questo tema delle macchine che no alcuni anche hanno paura dell'inquinamento cioè questa con queste dispendiose diciamo produzioni elettroniche per poi dispiegare tutto quello che c'è bisogno anche stanno mangiando un sacco di energia e quindi alcuni hanno paura anche di quello non è della stessa opinione sul tema perlomeno del del fatto che le macchine succassino l'uomo questa pascale fang che dice espressamente che una paura dell'apocalisse è tipica della cultura nostra giudaico cristiana e che nel loro non c'è questo questo spettro va bene giusto per allora qua torniamo sul punto che mi interessa di più cioè il tema del bias della credenza all'adattamento tutte queste tecnologie in qualche maniera sono essendo figlie giustamente di chi ha sposato molto il neoliberismo c'è un capitalismo molto preciso chiaramente punta che cosa a risolvere i problemi che ci sono ma non nel senso di trasformare la causa di fare in modo che in qualche maniera uno possa tirare innanzi sopravvivere perlomeno loro promettono questo e che deve un po' adattarsi la resilienza intesa come adattamento io dico decrescente perché l'adattamento crescente sarebbe l'adattamento temporaneo alle condizioni esterne per trasformarle cioè per creare delle condizioni future differenti più vicine alle necessità e bisogni dell'umanità della comunità relativa eccetera l'adattamento decrescente è un adattamento dove uno si adatta via via a tutto ciò che arriva che gli arriva propinato diciamo così e chiaramente qual è l'adattamento il cambiamento che viene propinato è quello che arriva dai centri di potere in particolare in questo momento stiamo parlando di quelli legati a diciamo alla cultura neoliberista della Silicon Valley quindi tutto ciò che non mette in discussione quello schema va bene il resto un po' meno quindi bisogna essere sufficienti resilienzi bisogna organizzarsi fare attrezzarsi valorizzare quello che c'è e effettivamente l'aigismo cioè il fatto di usare l'intelligenza artificiale come panacea fa parte di questa visione cioè come dire risolverà come anche dice l'ottimista che dicevo prima la tecnologia in sé risolverà tutto come se non ci fossero dei rapporti di forza delle questioni politiche delle questioni di diritti sociali come ci fosse una società dietro si immaginano come degli individui isolati un po' come faceva la Thatcher che vivono e sono in relazione quindi non esistono corpi sociali cioè loro vorrebbero che non esistessero quindi nonostante ormai si è visto che c'è stato come dicevo prima un peggioramento di molte situazioni della salute dell'educazione condizioni lavorative dell'ambiente frutto di scelte precise che ha fatto l'essere umano e in questi ultimi decenni guidato da una certa ideologia molto precisa non mi sembra che questa promessa si stia avverando anzi esattamente l'opposto e quindi non è contemplata però nonostante questo non c'è alternativa la frase della Thatcher non c'è alternativa there is not alternative detto male ma è così cioè così nel senso loro dicono che è così per cui ci facciamo l'app per la ginnastica a modo che non diventiamo obesi o cerchiamo di risolvere l'obesità ma non ci chiediamo perché la gente diventa obesa o comunque non profondamente l'importante basta una cosa tecnologica basta uno strumento come se avessi lì a casa un matrapano mi rende in grado di fare qualcosa no perché non c'è motivo il trapano in sé non risolve molto no quindi bisogna affrontare le cause secondo me ma non secondo alcuni e quindi è necessario uscire dal tema solo dell'adattamento decrescente entrare in quello dell'adattamento crescente che è trasformatore quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe entrare in quel contesto non in contesto di amministrare la scarsità e se le infrastrutture piggiorano continuare così perché chiaramente quei costi lì bisogna destinare ad altre cose quindi è l'utilizzo che metto in discussione come fa giustamente questo questo giornalista da cui ho preso spunto sociologo quindi diciamo per esempio per il tema dell'obesità ci dovrebbe essere una predisposizione cioè dei centri sportivi adeguati un diciamo proprio un degli spazi dove effettivamente ci sia gente che fa tutto ciò che è come dire sport cultura sportiva eccetera però non mi sembra che questo stia avvenendo per lo meno a Milano li stanno chiudendo i centri sportivi in più c'è questa ottica soluzionista c'è questa ottica per cui capito la soluzione passa tutto dagli strumenti dalla tecnologia dalla tecnica come dire in sé ma questo chiaro per non di parlare di altre questioni come dire parliamo di quello così non affrontiamo le cause ovviamente è funzionale non credo che che uno ci possa credere in sé però a noi ce lo raccontano così questa è la narrazione quindi oltre al tema dei posti di lavoro minacciati quello che dicevamo prima che è una delle minacce che sicuramente ha una sua valenza secondo me anche parlando con chi ne usa parecchia di intelligenza artificiale tra alcuni miei colleghi o amici però Morozov e io propone una critica profonda al tema cioè di applicazioni politiche filosofiche cioè appunto a quale scopo cioè lo scopo e soprattutto vogliamo investire nell'intelligenza umana o no perché se non investiamo sull'educazione non investiamo sul diciamo qualsiasi forma di condivisione del sapere qua l'intelligenza umana certo non va a crescendo quindi parliamo di intelligenza artificiale ma non ci occupiamo dell'intelligenza umana un po' strano anche perché con l'intelligenza da chi la prendono le macchine chi è che la sta infondendo vabbè quindi diciamo sicuramente i media hanno un ruolo importante anche la politica quindi il tema qual è che con l'efficientismo di questi anni poi ci troviamo con studiosi che si lamentano che l'insegnamento è diventato una merce lo stesso anche nella medicina si lamentano che si dà priorità agli interventi remunerativi quindi tutto ciò che emergenza o prevenzione tagliano ne abbiamo esperienza tutti e poi qua forse un riferimento anche al tema del giornalismo che è legato al click quindi invece che produrre contenuti di un certo valore il valore dipende a quanti click ha quindi anche quello non che prima non esistesse in assoluto però adesso è un po' più stressato questo elemento quindi spesso si va avanti a parlare di questioni che interessa solo perché fanno click poi se sono deleteri se la gente diventa ansiogena si martella le balle o diventa paranoica non importa è importante che fa click e finché la gente fa click andiamo avanti a parlare di quello anche se distruttivo questa è la distopia in cui si è arrivata abbiamo sperimentato tutti molto recentemente quindi l'intelligenza artificiale generale si vorrebbe applicarlo alle istituzioni alle università agli ospedali ai giornali con la missione di aggiustarle però non so questo aggiustarle cosa intendono di renderle più efficiente quindi dove non so un corso universitario ci sono 30 iscritti lo togliamo perché perché non è efficiente cioè qual è cosa vorrà dire questo in che senso contrastare qualche mai uno contrasta in che senso cioè queste diciamo regolamentazioni in che senso dovrebbero essere beh sicuramente la privacy perché i dati forniti che noi forniamo vengono riutilizzati per dare altre risposte ad altri quindi sicuramente i nostri dati centra nel tema della privacy come detto prima c'è questa epistemologia della scatola nera cioè questo diceva l'altra azienda come dicevo prima scatola nera non porti qual è il processo che ha dato origine a quello l'importante è che funziona e anche qui ovviamente è un gran problema poi per gente come noi insomma avere una scatola nera ci suona abbastanza male senza sapere cosa succede dentro quindi il problema è questo che se in qualche maniera tutto viene visto come una questione di soluzionismo cioè trovare una soluzione che nella tecnica è come dire che non esistono conflitti non ci sono centri di potere non ci sono falde non ci sono frizioni cioè un po' in qualche maniera far finta che non esiste la società quindi occultare quelli che sono coloro che hanno beneficio da quella società per cui è pericoloso è pericoloso come punto di vista quindi direi di non essere fiduciosi ingenuamente cioè direi che quello che il mio obiettivo è un po' alzare il livello critico così come lo facciamo sui sistemi operativi sulle applicazioni eccetera facciamola anche su questo tema dell'intelligenza artificiale perché se come dire si offrono risolvere tutti i nostri problemi ovviamente come abbiamo visto prima per poi avere un ritorno se no non investono quei soldi non mi sembra che loro l'hanno detto loro l'obiettivo loro è quello là ovviamente stiamo affidando ai romani qualcosa che invece fa funzionare la società quindi è molto rischioso per cui io direi dovremmo un po' rifletterci essere consapevoli l'entusiasmo va bene ma non ha critico quindi direi se i dati nostri sono la base della fonte dell'intelligenza artificiale e sono pubblici anche lei dovrebbe essere pubblica se i dati sono pubblici pubblici l'intelligenza artificiale deve diventare pubblica non può essere di aziende private quindi i governi dovrebbero rafforzare la sfera pubblica che è la linfa vitale della democrazia dovrebbe finanziare anche l'indipendenza dei media pubblici altrimenti diventano degli strumenti di chi li finanzia cioè privati ci dovrebbe essere una forte regolamentazione sia in termini di input i dati che entrano i modelli con cui viene fatta l'intelligenza artificiale e di output le previsioni ci dovrebbero essere delle LLM pubblici quindi long language bla 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 quindi cioè almeno questa è una proposta poi potrebbe essere che non sono pubblici ma si investe su dati di qualità che però rimangono pubblici insomma ci sono varie cose per cui non si lasci questo questo bene comune manipolato per interessi che sono molto lontani da risolvere i nostri bisogni quindi l'aigismo lo definisco un neoliberismo digitale mi è piaciuta la definizione l'ha fatto Morazzo ma mi ritrovo e serve diciamo un po' il greenwash cioè l'intelligenza artificiale così come viene proposta come la panacea è un po' un greenwash del neoliberismo alla fine che si è un po' rovinato un po' la facciata negli ultimi anni e ha un qualcosa di nuovo per dire no questa qui è una cosa figata aderite tutti fate tutto quello che vi proponiamo aderiamo a che cosa quello con pensiero critico no? e ovviamente anche qui è normale 5 minuti perfetto per cui diciamo c'è l'intelligenza sociale mentre invece in questa visione neoliberista si dà importanza all'individuo l'individualismo schizofrenico mentre invece c'è un'intelligenza sociale e anche emotiva che è importantissima da sviluppare per fare quello bisogna investire come ho detto prima nell'educazione nell'università nelle biblioteche in tutto ciò che permette lo sviluppo di quello della ricostruzione del tessuto di relazioni tra le persone qua ho messo dopo uno se lo guarda con calma un po' di vari settori in cui c'è l'intelligenza non è solo la questione non è che c'è solo un settore non è che siamo solo una macchina di elaborazione di dati siamo molto di più e sicuramente per stimolare socialmente l'intelligenza umana dovrebbe essere gratuita l'università non dovrebbe esserci nessun numero chiuso le biblioteche dovrebbero essere tutte pubbliche e fornitissime con accesso a tutti i libri non che uno deve per forza comprarsi se vuole se li compro io mi li compro quando mi piace averli lì me li compro però non riesco ad accedere a tutti i libri né utilizzando le biblioteche università né tutte le biblioteche di Milano e non ci sono tutte disponibili dovrebbero essere disponibili invece quindi abbiamo anche un conflitto tra istituzioni democratiche che vengono spodestate da questo neoliberalismo digitale e quindi dovrebbero rigettare questo soluzionismo e questo mettersi nelle mani perché poi diventeranno dipendenti da quel tipo di soluzione che non è neanche loro forse qualcosa che rimane pubblico che creiamo noi ma se rimane così non è così ci affidiamo e poi saremo dipendenti dovranno fatturare i signori e quindi smettere di finanziare progetti per la messa in sicurezza della I che in realtà sono destinati a fare dei dataset per l'addestramento del loro software e iniziare a finanziare progetti per la cultura e l'istruzione migliorando l'intelligenza reale quella degli uomini va bene io ho finito c'è ancora tempo per qualche domanda due minuti va bene sì certo sarebbe anche utile cercare di fare concorrenza alle soluzioni proprietarie anche questo tipo di soluzioni secondo me sì sarebbe da fare secondo me ripeto secondo me se i dati sono pubblici anche dovrebbe essere pubblico tutto il resto quello che è il prodotto dell'intelligenza artificiale anche secondo me tutta la parte di tutto però nella facilità più debole potrebbe essere il prodotto io punto a tutto che sia tutto pubblico poi se uno vuole farsi per i suoi scopi specifici non so militari aziendali la sua intelligenza artificiale privata ovviamente non è che l'altra si abolisce però deve esserci tutto ciò che riguarda l'equilibrio pubblico dovrebbe dipendere da qualcosa che è di proprietà della società nel suo insieme sì sì secondo me varrebbe la pena lanciare dei gruppi di lavoro che iniziano a spingere su questo c'è qualcosa di intrinseco nelle tecnologie di intelligenza artificiale che le rende diverse da altre tecnologie di interesse pubblico che sono nelle mani puramente del settore privato o è semplicemente un caso come gli altri delle nostre credo secondo me la magnetude è un po' diversa secondo me l'impatto che ha che sta avendo che avrà in questo momento perlomeno è molto rilevante quindi in questo momento direi mettere il foco su quello non che voglio dire che tutto il resto no per esempio mi piace tantissimo la campagna del public code eccetera della free software foundation per dirlo per cui però ecco in questo momento che c'è in questo momento delicato in cui diciamo cercano di agganciare tra virgolette tanti clienti che sono governi istituzioni è molto delicato in questo momento quindi è puramente la portata non qualcosa di intrinseco della propria no potrebbe essere anche un po' legata a tecnologia potrebbe essere legata anche alla portata la portata inteso come la magnitudo della adesso magari dobbiamo tempo un po' limitato poi dopo se vuoi